Musica Usare correttamente la zona traffico limitato e regolamentare la viabilità cittadina. A Benevento arrivano 23 telecamere, un nuovo sistema di videosorveglianza che l'assessorato alla mobilità del Comune di Benevento ed il Comando di Polizia Municipale hanno presentato alla città attraverso gli organi di stampa. Il progetto Benevento Città Sicura è finanziato dal Ministero dell'Interno, 406 mila euro, e sarà attivo nel giro di 12 mesi. Delle 23 videocamere che verranno installate, solo 7 saranno posizionate nel centro storico della città, come spiegano l'assessore al ramo Rosario Guerra ed il comandante della Polizia Municipale Giuseppe Moschella. Allora, è un progetto che ha avuto il suo inizio, diciamo così, la sua genesi nel settembre dell'anno scorso. Il titolo è Benevento Città Sicura perché il nucleo del progetto riguarda proprio il miglioramento, diciamo, dell'inalzamento della sicurezza nella nostra città. La zona presa in considerazione è la ZTL, ma questo non esclude che possiamo installare delle videocamere anche in altre zone particolarmente a rischio, dove c'è la possibilità, diciamo, della commissione di reati, di compiere danneggiamenti e cose simili. Diciamo che il mio ufficio ha lavorato allacremente su questo progetto, ci ha creduto fin dall'inizio. Io non pensavo, diciamo, di arrivare a un traguardo simile, anche perché sapete benissimo che viviamo in un'epoca in cui le parole predominanti sono crisi, tagli, sacrifici, spending review. E quindi per me il 6 luglio, quando è arrivato questo parere favorevole del Ministero dell'Interno, che ci concedeva il finanziamento, è stato un giorno, diciamo, particolarmente significativo. E ho ringraziato, diciamo, i tecnici che hanno lavorato a questo progetto, anche perché si tratta di un finanziamento consistente, 406 mila euro, e il rapporto ad altre città importantissime che hanno partecipato, come Catania, Catanzaro, La Mezzia Terme, Brindisi, alcune città del nord, come Monza, Vigevano. E noi abbiamo ottenuto il finanziamento più alto, anche perché i parametri a cui dovevamo attenerci non era solo quello della sicurezza, ma anche, diciamo, combinare un altro elemento, tutela della sicurezza, ma in relazione a zone di particolare pregio artistico-architettonico. In ciò ci ha aiutato naturalmente il riconoscimento che abbiamo ottenuto di Benevento Santa Sofia, patrimonio dell'UNESCO. E questo progetto, voglio precisare, rappresenta non un punto d'arrivo, ma naturalmente un punto di partenza che riguarda, come diceva anche il nostro comandante, il dottor Giuseppe Moschella, l'inalzamento, diciamo, della salvaguardia dei cittadini, del miglioramento della vivibilità sotto tutti i punti di vista. Quindi l'ottenimento di questo traguardo non ci deve far illudere che ormai tutto sia stato risolto, anche perché io caratterialmente considero, diciamo, a livello politico quello che è stato fatto ieri, già trapassato remoto, quindi già prevedo di raggiungere altri traguardi importanti. Questo progetto sarà possibile, però ci tengo a ribadire, metterlo in pratica con la collaborazione preziosa dei vigili urbani, quindi del comandante di tutto il corpo, anche perché poi la fase esecutiva, operativa, vera e propria, si avrà quando, diciamo, dal comando dei vigili urbani ci sarà l'esame, l'affluenza di tutti i dati, quindi la valutazione se il sistema funziona a dovere, quindi come deterrente e come strumento, diciamo, per combattere varie tipologie di reati. Il contributo della Polizia Municipale sarà, come mi ha pronunciato l'assessore, anche nella fase di realizzazione, diciamo, con un contributo di esame e di suggerimenti rispetto ai luoghi che dovranno essere monitorati. Nella fase invece esecutiva sarà la Polizia Municipale a doversi prestare sul campo in modo veramente attivo e fattivo. Noi già abbiamo però visto l'istituzione della sala operativa, già vi è la sala, una bellissima sala, già fatta con tutte le tecnologie più moderne, una sala che verrà utilizzata con l'impiego di personale altamente specializzata della Polizia Municipale, personale che già sta facendo i primi corsi di aggiornamento rispetto a questo, e anche la nuova impostazione di filosofia, di controllo o di gestione di una sala operativa, che è una novità per la Polizia Municipale di Benavento. La gestione avrà due momenti. Innanzitutto, quando il progetto sarà in fase di attuazione, avremo una gestione immediata degli eventi e dei fatti, cioè tutto ciò che le telecamere rimanderanno come immagine saranno degli input per sensibilizzare e sollecitare degli eventi della Polizia Municipale. Se sarà del caso, coinvolgeremo anche le altre parti di Polizia se gli eventi sono di particolarmente grave. Poi vi è anche un passaggio di elaborazione dei dati memorizzati. Penso che con questo progetto si potranno rilevare infrazione al codice della strada, si potranno anche controllare i monumenti più importanti della nostra città, e in particolare quella delle zone ATL, di comune per tutti i patrimoni dell'UNESCO Santa Sofia, sarà costantemente sorvegliata e questo significa anche con pronta disponibilità da parte della Polizia Municipale di fare qualsiasi intervento, sia per la banalità, che può essere il bambino che gioca a pallone, o per la cosa grave dello sconsiderato che vuole danneggiare i monumenti così importanti che caratterizzano la nostra città.